Un amore non corrisposto diventa ossessione di una giovane donna che non si rassegna ed inizia a perseguitare quello che avrebbe voluto diventasse il suo uomo. Una travagliata storia d'amore malato iniziata nel 2012, lui si è appena separato e lei che già segretamente lo amava inizia a farsi avanti. Nessuna illusione e chiarezza sin dal principio quel sentimento non è condiviso, ma lei non si arrende ed inizia a seguirlo a lavoro, per strada, a casa, alla cui porta si presenta innumerevoli volte bussando con insistenza per incontrarlo e non risparmiando gli insulti e aggressioni fisiche, tanto da costringere la vittima a sporgere denuncia, ma neanche questo è bastato a farla desistere. Tra gli interventi dei poliziotti delle volanti all'abitazione del malcapitato, otto anni vissute in un escalation di ansia, frustrazione ed inquietudine, qui segue il totale stravolgimento delle tormali abitudini di vita. Ieri, la fine di un incubo, il quadro indiziario ricostruito dagli operatori di polizia è chiaro ed oltre ad evidenziare la condotta persecutoria, lascia trasparire il concreto pericolo di reiterazione che ha portato il PM, coordinatore delle indagini, a chiedere l'applicazione di un'idonea misura cautelare tempestivamente emessa dal GIP. La stalker non potrà più avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, mantenendo comunque una distanza di almeno 200 metri, ne potrà intrattenere con la vittima qualsiasi forma di comunicazione. Grazie. Grazie.